Buongiorno a tutti, allora iniziamo il nostro solito tour de force che riguarda naturalmente le schedine e le bollettine del gigione per il campionato per i cinque campionati principali europei, quindi italiano, spagnolo, inglese, tedesco e francese. Li metterà in quest'ordine in base agli orari perché inizierà stranamente, a parte gli anticipi di questa sera o di ieri sera a seconda di quando questo video andrà, io mi auguro entro la giornata di venerdì perché li sto facendo in mattinata, siamo intorno a mezzogiorno. E per ora che si caricano ci vuole il suo tempo, comunque dovrebbero caricarsi nella giornata di venerdì in modo che così avete tutto il tempo di studiarvi le varie cose. Però, bando alle ciance, partiamo subito col campionato italiano e con la prima schedina del gigione che parte così. Parma-Milan, partita delle 12.30, X2. Empoli-Spal, 1-X. Cagliari-Frosinone, 1-2. Quindi o vince il Cagliari o vince il Frosinone. Bologna-Sandoria, 1-2. O vince il Bologna o vince la Samp. Me le arrischio così perché sono tutte partite in cui il pareggio non serve a un alberito ciuffolo. Empoli-Spal potrebbe andare bene, invece potrebbe andare molto bene alla Spal, un po' meno all'Empoli che invece deve vincere. Mentre invece Cagliari-Frosinone e Bologna-Sandoria sono due partite in cui la Samp deve vincere per stare a ridosso della zona Europa. Il Bologna deve vincere per scappare dall'Empoli perché qualora il Battessa e la Spal la sopravvanzerebbe di un punto. E quindi sono partite tutte che il pareggio non serve a nulla. Genoa-Torino. Io so che Genoa è favorito. Però il Torino, anche lui, ha ancora qualche piccola chance se la sta giocando di Europa League. Quindi mi arrischio l'X2. Il Genoa ormai è salvo. È praticamente salvo. Non gli bastano tre punti, quindi probabilmente le motivazioni del Torino possono essere superiori a quelle del Genoa. Quindi mi arrischio un'X2 che non un 1-X o un 1-2. Però poi fate come volete. Lazio-Chievo 1 scontato. Poi non si sa mai cosa può succedere. Udinese-Sassuolo 1-X. Juventus-Fiorentina. Allora, la Juve è favorita, nettamente. Però, siccome hanno lo scudetto in tasca, e però hanno lo scoramento dal fatto di aver perso in Champions, e diciamo che non hanno fuori un po' di giocatori, io mi arrischio l'X2. Poi è un mio rischio, è un mio rischio personale, quindi voi seguitemi, ma fino a un certo punto. Inter-Roma, toccatina 1-X. E Napoli-Atalanta, partita di lunedì 1-2. Vale lo stesso discorso che facevo per le altre partite. Il Napoli ormai è quasi sicuro del secondo posto, quasi, non sicurissimo. Arriva dalla sconfitta non tanto simpatica con l'Arsenal, anche se dovevano fare un miracolo, però perdere non è stato tanto bello. L'Atalanta è in forma, l'Atalanta è in forma, e ha bisogno di punti per giocarsi la zona Europa, quindi mi sono giocato l'1-2, perché il pareggio, francamente, non serve granché. Poi magari fanno 3-3 come al solito, segnatevelo se volete. E poi, vabbè, amen. Naturalmente questi sono semplici consigli, poi ognuno faccia come crede che è meglio. Poi se vi piacciono, seguitemi. Opzione 2, schedina number two. Quindi quella con gli over, under-over, oppure un gol. Quindi partiamo con Parma-Milan, che mi arrischia un under-3,5. Milan non segna tantissimo, il Parma ha una buona difesa, una squadra che di gol ne prende pochi, quindi 1-1, 0-0, 0-1. Under-3,5 ci può stare. Empoli-Spall invece metto gol, perché sono due squadre che si giocheranno, si stanno giocando alla salvezza. La Spall è un attimo favorita, l'Empoli ha l'obbligo di vincere, se no è dura. Cagliari-Frosinone e gol vale lo stesso discorso. Il Frosinone si sta giocando tutte le poche chance che ha di salvarsi, quindi ogni partita è una battaglia, va in campo e se la gioca, quindi gol ci può stare. Bologna-Sandoria, stesso discorso, gol. Genoa-Torino, under-3,5, perché sono due squadre che non... Cioè, il Torino prende pochi gol, il Genoa non è che ne segni una caterva, quindi ci può stare anche quello. Lazio-Chievo invece è over 2,5, mi auguro che il signor Ciro Immobile non stia immobile anche col Chievo, almeno un gollettino lo riesca a fare. Poi Udinese-Sassuolo, gol perché vale il discorso precedente, poi magari fanno uno squalidissimo 0-0, però mi auguro che sia gol. Juventus-Viorentina over 1,5, Inter-Roma over 1,5, Napoli-Atalanta, gol perché mi aspetto una gran bella partita lunedì sera. Veniamo alle bollettine. Ho fatto un po' fatica a scegliere le partite perché ho tolto le due milanesi. Non mi andava di mettere il 2 al Milan e sapete benissimo che l'Inter difficilmente la inserisco nelle bollette, proprio perché solitamente la sbaglio sempre ogni volta che la inserisco, quindi evito. Quindi ho scelto queste quattro e mi spiace, dovrete aspettare lunedì qualora prendessi le prime tre, c'è di mezzo anche Napoli-Atalanta. Quindi mi auguro che lunedì siate lì a vedere la partita perché vi manca quella per fare cassa. Spero, mi auguro. Empoli-Spal 1, Cagliari-Frosinone 1, Udinese-Sassuolo 1, Napoli-Atalanta 1. Con 5 euro se ne vincerebbero 90,88. Siccome già questa è bella tosta, difficilotta, eccetera, ho fatto naturalmente quella con le quattro doppie, quindi ho messo quattro doppie belle tranquille, Empoli-Spal 1, X, Cagliari-Frosinone 1, Udinese-Sassuolo 1, X e Napoli-Atalanta 1, stavolta ho messo la X e non il 2. Speriamo. Con 5 euro se ne vincerebbero 13,60. Giusto un contentino per intenderci. Terza bollettina, Empoli-Spal 1, X più over, Cagliari-Fiorentina 1, X più over, Udinese-Sassuolo 1, X più over, Napoli-Atalanta 1, X più over. Anche qui mi arrischio l'X anziché il 2 come ho fatto nella... Poi vedete un attimino voi. Non ci ho pensato ma ho detto proviamola così. 5 euro, 36,32. Quarta bollettina, Empoli-Spal gol ospite, Cagliari-Frosinone gol ospite, Udinese-Sassuolo gol ospite, Napoli-Atalanta gol ospite. Con 5 euro se ne vincerebbero 18,42. Quinta bollettina, quella un attimino più pazzarrialla diciamo, però non lo è neanche molto perché allora Empoli-Spal gol più over, gol più over e no gol più under alla pari, perfettamente alla pari a 2,25. Cagliari-Frosinone, gol più over, più o meno alla pari, c'è una differenza di 0,10-0,15 più o meno a favore del no gol più under, però siamo lì. Udinese-Sassuolo, stessa valutazione di Empoli-Spal, quindi 2,25-2,25 su tutte e due, quindi sia il gol più over che il no gol più under sono alla pari, viceversa, Napoli-Atalanta al gol più over è nettamente favorito il gol più over. Con 5 euro se ne vincerebbero 113,64, ci sono le stesse chance uguali, identiche, che esca uno o l'altro risultato. Non è che ce n'è per le prime tre. La quarta, Napoli-Atalanta, danno per scontato valanga di gol, o come direbbe Altafini, c'è profumo di gol in questa partita. Sesta bollettina, questa sì è tosta, quindi prendetela con beneficio di inventario. Empoli-Spal, uno più gol più over, Cagliari-Frosinone, uno più gol più over, Udinese-Sassuolo, uno più gol più over e Napoli-Atalanta, uno più gol più over. Con 2 euro se ne vincerebbero 541,92, quindi non arrischiate di più. Con 5 euro se ne vincerebbero addirittura 1364,89, però. Ripeto, questa è veramente, veramente molto difficile che esca però. Io la butto lì, poi, vedete voi. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio che ho parlato anche troppo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!